L'ultimo saluto a Roberto Mirisola, grande scrittore intellettuale impegnato. Di scrittori intellettuali famosi si racusano avuto tanti, capaci di dire a loro e di animare il dibattito culturale dentro e fuori la provincia. Eppure la scomparsa di Roberto Mirisola, mancato all'età di 79 anni e di quelle che lasciano una spazio difficile da sostituire. Mirisola è stato un letterato, un ricercatore grande per ampiezza del suo orizzonte espressivo e un altrettanto grande suscitatore di idee e curiosità. Il suo impegno civile e l'occhio non benevolo verso la politica gli hanno portato molti estimatori e almeno altrettanti avversari. I suoi scritti hanno dato voce al mondo della storia e della cultura siracusana. Per il professor Paolo Gian Siracusa Roberto Mirisola era un uomo d'altri tempi, saggio e prudente, affettuoso e disponibile, studioso di grande cultura, generosa intellettuale, instancabile ricercatore, paleontologo e archeologo, amante della natura e in particolare del mondo dei funghi. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile tra gli studiosi della città, tra i micologi, tra gli amici e quanti l'hanno conosciuto e amato, afferma lo scrittore e l'artista Antonio Randazzo. Con lui Siracusa perde un pezzo fondamentale della bellezza vivente, dell'onestà, della purezza d'animo, dello stile di vita. Addio Roberto, addio alla tua dolce e affettosa presenza. Condoglianza è concita, altra nobile creatura di questa città orfana. I funerali si sono svolti stamane davanti a un folto pubblico nella chiesa di Santa Rita, tra cui l'ex arbitro Rosario Lobello e Maria Cacerona Di Marco. Nell'omelia dei funerali celebrati a Santa Rita, Don Rosario Lobello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo in Ortigia, amico di famiglia, ha profuso parole di ringraziamento a nome della città per l'interesse nei confronti dell'ambiente nei lontani anni 90, per il plemmirio sulla storia che esso rappresentava, per cultura storica di quei luoghi, per la città. Ha fatto parte del comitato scientifico e coautore delle pubblicazioni L'Alta Valle dell'Anapo, Siracusa 1987, la riserva naturale Ciane Saline di Siracusa, Siracusa 1989, Capo Muro di Porco, la penisola Maddalena, analisi del territorio proposta per una riserva terrestre, Siracusa 2003. Cos'è la morte? Ha detto Don Rosario. Dio è umano e chiunque riconosce l'uomo riconosce Dio e chiunque cammina nell'umanizzazione cammina nella divinazione. Gesù non perderà chi va a lui, non lascerà che gli sia strappato dalla mano e neppure la morte sarà in grado di operare questa separazione. Roberto Mirisla era un membro ormai nella gloria e a tutti noi ci mancherà il suo modo di essere semplicemente cittadino della cultura.